bene signori guardate qua allora e ripieroghiamo per la trita abbiamo fatto abbiamo messo il carne tritata diciamo poi ci abbiamo messo del pan grattato del pan tra fermo con con del latte per ammorbidirlo diciamo così delle uova due uova ci ho messo parmigiano reggiano parmigiano reggiano un po di prezzemolo sale pepe invece per diciamo il contorno abbiamo fatto due patate less e un po di prezzemolo un goccino d'olio gli extravergine di oliva un po di sale la cena è pronta per stasera ci vediamo per l'assaggio a dopo ciao